Aurelio Toriani che dichiara nessuna certezza che Ghezzi abbia 19 voti in più di noi. L'ufficio elettorale che esamina i verbali rileva che 19 voti in più ci sarebbero veramente. Diego Di Piero e la Lega Nord che denunciano Fugni e compra vendita dei voti e sembrano riferirsi al sindaco Carlo Barbieri. In mezzo a questo mare di dichiarazioni accusatorie e contrastanti, lei domenica 14 giugno andrà comunque a votare al ballottaggio oppure preferirà fare altro? No, no, il diritto del voto è assolutamente importante per tutti, per cui di conseguenza andrò a votare al ballottaggio e confermerò la preferenza date nel primo turno. Quindi nonostante tutto comunque c'è chi dice no io non ci vado perché guarda cosa stanno combinando e invece in questo caso lei dice no io vado perché è un mio diritto e è un mio dovere anche. Beh, nonostante in Italia poi i tempi della magistratura siano biblici, sicuramente non ha fatto piacere venire a conoscenza di determinate azioni, però sono da dimostrare insomma di conseguenza fino a prova contraria andiamo a votare al ballottaggio. Sicuramente andrò a votare proprio perché vorrei che cambiasse un po' la situazione, si chiarisse soprattutto cosa sta succedendo con tutte queste diatribe non ben chiare su voti mancanti o meno. Comunque è un mio diritto e vado a votare. Quindi per supportare il suo candidato e per esercitare il suo diritto lei andrà a votare? Sicuramente sì. Quelli che invece dicono no io non vado a votare tanto non serve a niente, lei cosa ne pensa? A furia di dire no non serve a niente ci troviamo ad esempio un governo che non è mai stato eletto dai cittadini e ce lo teniamo e non possiamo, protestiamo ma senza fare niente, quindi io voto. Poi gli altri sono liberi, siamo in democrazia, possono scegliere di non votare. Non vado a votare. Preferisci fare altro? Preferisco fare altro perché già sono andato a votare, basta. Perché non ci vuole andare a ballottaggio? Perché c'è una moglie invalida per portare la scuola, faccia fatica. Lei invece che potrebbe andare? Io potrei andare ma non vado. Ma perché non c'è il suo candidato? Perché in mezzo a tutto questo... Perché io di politica proprio non me ne intendo proprio, quindi non so, qua ognuno fa i fatti suoi, va su per fare i fatti suoi e basta. Il fatto che ci siano quindi due candidati di destra a lei non importa nulla, che non ci siano uno di destra? Ma non mi interessa il candidato, ecco io non è che faccia il tifo per uno o per l'altro, vorrei che le cose andassero meglio per tutti. Però non va a votare. Non va a votare perché non serve a niente andare a votare, tanto loro fanno sempre quello che vogliono loro.